Il professore Cassandro Di Salerno, presidente della SIO, società italiana di otorino-linguatria e chirurgia cervico-facciale, che sta lavorando molto con commissioni specifiche all'accreditamento ministeriale previsto per legge. Come state lavorando e quali sono le prospettive in questo senso, professore? In realtà le società scientifiche tutte si trovano ad attraversare un momento molto difficile, nel senso che per poter essere accreditate al ministero dovranno elaborare tutta una serie di passaggi statutari che permetteranno questo accreditamento. Che cosa significa accreditare una società scientifica? Significa dare a questa società la possibilità di elaborare a loro volta delle linee guida ufficiali che verranno recepite dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero, inserite un elenco ufficiale che permetteranno a tutti quanti i medici e operatori sanitari che in qualche modo dimostreranno di, nel loro operare tutti i giorni, nel loro contatto sanitario con i pazienti, di seguire queste linee guida, di essere in qualche modo depenalizzati rispetto a quello che può essere un discorso di colpa lieve. Questo potrebbe sembrare un discorso molto tecnico, in realtà non lo è, perché voi sapete bene che ultimamente la medicina ha avuto una serie di problemi per questo atteggiamento difensivistico al quale i medici in qualche modo sono stati costretti da una serie di problemi di risarcimento. Questo discorso non sarà più così perché se un medico, come dicevo, dimostrerà ove mai ci fosse un qualsiasi problema di carattere medico con un paziente che se ha seguito le linee guida della società, le linee guida ufficiali, delle società accreditate, questa colpa può essere in qualche modo depenalizzata. Quindi è un passaggio molto delicato al quale tutte le società scientifiche si stanno impegnando in tempi rapidi perché entro l'inizio di novembre le società dovranno presentare questa application al Ministero per avere questo riconoscimento. Quindi stiamo lavorando in maniera concitata perché i passaggi statutari sono passaggi di un certo impegno che prevedono dei requisiti che il più delle volte non vengono previsti dalle società scientifiche perché di fatto una società scientifica è quasi come se si trasformasse in una vera e propria azienda dove dovremmo avere un controllo di qualità in qualche modo certificato da società, da studi che si interessano di queste cose, dovremmo avere una regionalizzazione su tutto il territorio nazionale quindi con sedi regionali perlomeno in 12 regioni italiane, un comitato scientifico che si faccia garante dell'attività scientifica della società è tutta un'altra serie di norme che sarebbe un po' lungo elencare ma mi piaceva sottolineare l'impegno alle quali le società scientifiche sono in questo momento che era richiesto alle società scientifiche e che naturalmente in qualche modo servirà anche un po' a rivitalizzare una vita societaria che ultimamente si era un po' adattata ad una consuetudine che in realtà oggi dobbiamo in qualche modo cambiare. Dal punto di vista strettamente sanitario, le linee guida a cui state lavorando, parlo in particolare del distretto dell'orecchio, riguardano poi anche, immagino, comportamenti clinici che possono essere più uniformi dal punto di vista nazionale, quindi per voi operatori? Sì, sicuramente, ma questo non è un discorso che vale solo per l'orecchio è un discorso evidentemente che vale un po' per tutti i distretti della nostra specialità. Cosa potrete guadagnarci da questo? C'è qualche area di miglioramento attualmente ancora esistente sul discorso di uniformare i comportamenti clinici? Uniformare i comportamenti clinici c'è sempre un risvolto duplice, nel senso che essere d'accordo su una modalità di approccio clinico a una qualsiasi patologia è sicuramente un fatto positivo perché questo ci permette in qualche modo di avere dati confrontabili, ci permette di confrontarci a nostra volta sulle scelte e quindi le linee guida in qualche modo ci obbligano ad un confronto. È evidente che come tutte le cose in qualche modo un po' rigide finiscono per avere un risvolto negativo, la salute umana e gli uomini in particolare non sono dei robot, sono delle persone che hanno variabili biologiche di tanti tipi, quindi inevitabilmente finisce per avere anche un risvolto di questo tipo. Direi che la società italiana di otteria e migliatria era già avanti dal punto di vista delle linee guida perché tante linee guida erano state già prontate sulla base delle esigenze prioritarie riguardo all'oncologia testacollo, all'orecchio, riguardo agli aspetti del naso, però queste linee guida adesso le stiamo rivedendo alla luce anche di un protocollo che ci è stato fornito dal istituto superiore di sanità e al quale ci dovremo in qualche modo uniformare. Questo significa tra l'altro un confronto con quelle che sono oggi le metodiche più avanzate nell'approccio alle problematiche cliniche, significa guardare anche a linee guida internazionali, quindi c'è in qualche modo una cosa che per la verità si è sempre fatta, però adesso siamo in qualche modo forse anche un po' costretti ad essere il più attenti possibile su questo aspetto. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie.